o prendo io a prenderti a casa no no quando è il tuo io vengo a casa e tu che vieni? a bici ah ok no se no bici veniva a prendere noi no no se no ci sono qua ci sono i canici o si? si metto i bici e va su ok e poi ci si vieni a mangiare e poi ci si vieni a mangiare e tu va su ah no perché tu dici si allora andrò porto a casa e poi il limite o se venite qui a cena vi dico il tuo io a casa o ci si ferma a mangiare una pizza ah ah si ferma una pizza certo certo ti dico le cose che non mangio lei no io lo mangio tutto no io lo mangio tutto bravo questa roba fidere la mangi no no ma tu ti manda questo se non vuoi fare la carne non la fare io la carne l'uguale se c'è certo non c'è certo se c'è certo molto ma io ho trovato un bel contatto che trova l'altro e dietro a fare un contatto e che cosa? io ho trovato un bel contatto si davvero? eh ma guarda io non c'è cosa che la prendo eh beh non posso chiedere il specchio ma per che cosa? non mi ha capito mai ecco di qua ma per la società? ma vai è che è una cosa senti vieni ascoltami eh no io non mi piace ma non mi piace ma non mi piace eh no poi mi sentiamo mi sentiamo in togli bene bene ascoltami dai e andiamo a vedere questo caso di corso perché cioè secondo me il fattivo il senso eh ma la parliamoci ne ho risultato cioè io sono chiaro nel senso non è che voglio parlare e si dice ci fa tempo due anni giusto? prima di pagare o no non capiamo altro giusto? quindi non ci fa il tempo su questi due anni di pagare gli stati e i prossimi non ho risultati cioè le miei scopi non ho risultato non ho risultato io non ho risultato non ho risultato ma ecco è caso approfondi dove si fa? si dice guarda il pelo a settimana e pasta ci sono chiaramente in toccati intanto si guarda quello che manca così così io ci metto questo lo scappaggio in questa macchina che manca e poi non farei tante cose cioè pizza 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 focacce e pagina basta che ora poi poi se ti richiede anche di mezzo tanto andrà a vedere la casa perché io mi starei tanto c'era una torcia le cose sfizie le cose sfizioni la batterita ma che questo lo vuole fare certo e il fine settimana focacce il fine gravo tutto chilometro zero comunque questo tipo che conosciuto in Valtichiana c'ha l'internet c'ha parte c'ha un botto di roba c'ha disco e il campo perchè gli fa tutto un'auto in vero, ma su tutto i dati come conto i cartieri c'è del giallo, cinque di cartieri in pratica e quindi da quello che sono i cartieri si è iniziale si è iniziale si è iniziale ti ricordo molto che non si meraviglia allora 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 io so che 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 se c'è altro ci vedete una bella madre facciamo guarda 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 ma scusami ma scusami è quello che dopo quando ha scavato no guarda scusa se si fa la roba buona la roba di lì buona chilometro zero per ok ma oh che fai ti colleghi o no ti colleghi o no eh allora te c'è Sì, si può un parco, guarda, non si può un parco Vai? Vai, ti aspetta Vai? Vai? Sono Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.